Come è la ricerca della felicità? Come è la ricerca della provincia autonoma di Trento, Paolo D'Amosso ha fornito la sceneggiatura, ci ha dato lo spunto, questa scatola rossa conservata in casa è stato il pretesto appunto. E' il filo conduttore di tutto il racconto, è stata lei che ci ha portato in questo viaggio, gli oggetti della scatola come vediamo la penna, le sigarette, non dico altro e poi fino a tutto il percorso del suo viaggio, della sua vita in alcune tappe rappresentato in questa ultima pagina fino diciamo alla parte più... All'esito drammatico All'esito drammatico All'esito drammatico All'esito drammatico All'esito drammatico Grazie a tutti